Riparte questa sera alle 21 su Tele One, Centrocampo, la trasmissione condotta da Giusy Randazzo. Ascoltiamola. Questa sera alle 21 riparte in diretta la nona edizione di Centrocampo. Quali sono le novità di quest'anno e soprattutto chi saranno gli ospiti? Quella forse è la cosa più importante. Infatti le novità di quest'anno andranno incontro all'andazzo della situazione della nostra squadra, il Palermo. Per quanto riguarda gli ospiti di questa sera abbiamo il nostro amico l'onorevole Antonello Cracolici, poi abbiamo il tecnico Dario Golesano, poi abbiamo una parte telematica un po' rinnovata con il giornalista Walter Gennò e gli ospiti fissi noi abbiamo sempre il console del Burkina Faso, l'avvocato Otito, il nostro amico Salvo Messina, un altro giornalista. Poi magari ci saranno delle sorprese perché ho un ospite in stand by che ci terrei che fosse presente questa sera a Centrocampo. Le altre novità. Una novità di quest'anno che non avevamo anticipato l'altra volta è che stiamo dando dello spazio a dei giovani talenti siciliani. Quindi per tutti coloro i quali volessero partecipare e pubblicizzare la propria arte lo possono fare tramite Centrocampo. Oppure scrivendo, andando alla pagina, anzi di Facebook Centrocampo, basta che cliccate mi piace, oppure su giambo.it ci sarà il modulo per partecipare a questa nuova iniziativa. Ovviamente anche come gli scorsi anni da casa possono partecipare alla trasmissione. Certo, abbiamo la parte telematica che è proprio pronta a prendere sia i commenti, sia le notizie e sia anche la gente che si lamenta un po' e noi li leggeremo in diretta. Quindi questa sera vi aspetto alle ore 21, adesso io mi vado a cambiare e cercherò di essere più impante.